Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco, Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Ricorderò e comunque anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque anche se non vorrai, ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani e da prima di giorni lontani saranno anni. E ti scorderai di me quando piove i profili e le case ricordano te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pure avendoti qui ti sentirei distante. Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me quando piove i profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più un ricordo, ora voglio il tuo ritorno. E sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore, lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Buon lavoro al nostro Enrico in regia e non ha bisogno di tante presentazioni. La chiamo subito qua perché lei è pronta per farvi cantare insieme a lei. Signore e signori Valentina Branca! Eccomi qui! Ciao Feiretti! Ciao Branca! Buona settimana, buon inizio settimana anche a te. Insomma, siamo pronti? Ma sì dai! Facciamo cantare un po' i nostri amici ma prima di farti esibire vocalmente so che domenica tu sei andata a esibirti in Girula per il mondo. Dov'è che eri? Ero ad Aosta, a Aosta Centro. E hai trovato amici di Casa Feiretti. Ma sì, pensa che un signore è arrivato lì vicino dove cantavo, mi guarda e mi fa Sai che ti guardo nella televisione e mi ha detto così, mi ha detto così All'inizio non eri tanto brava, però ti guardavo lo stesso, adesso invece Guarda, Valentina ti dico una cosa, io due o tre giorni fa mi è arrivata in mano una puntata, una delle prime puntate di Casa Feiretti Quando lo studio era ancora girato in un altro modo, quando si andava in onda con una webcam E ho detto mamma mia, ma pensa che fiducia che ha avuto tutta Rete7 a credere comunque in noi Nonostante un audio che era una cosa terribile, un video che era una cosa terribile Loro hanno visto più avanti e siamo arrivati a questo Quindi possiamo fare noi questa volta un applauso a tutta Rete7 che ci crede ogni giorno, che crede in noi in quest'ora Grazie, vi vogliamo tutti un mondo di bene E adesso però voglio vedere qualcosa E adesso qualcuno ci guarda e ci saluta C'è un video, c'è un video, c'è un video, c'è un video, vai Enrico e Rezia, subito così, dai Ciao a tutti gli amici di Casa Feiretti Salutiamo tutti gli amici di Casa Feiretti Argentina, sei stata una sorpresa Ciao amici di Vai Feiretti Casa Feiretti Casa Feiretti Sì, grazie Una sorpresa molto amabile Grazie mille Ciao, alla prossima Branca scusa, ma l'ultimo era il cantante dei Dick Dick Somiglia Ci assomiglia Dai, cantiamo un po', arriva un brano di Marcella, bella, bella, bella come te, nessuno mai Eccolo qui Cantiamo tutti Nessuno mai, nessuno mai, nessuno, nessuno, nessuno Telefonarmi tu puoi perché a quest'ora tocca a lei stati vicino Così nessuno mai, nessuno mai mi tiene la mano Nel buio avviora la paura e mi affermento con i complessi di un bambino Se non l'avi perché ci stai Lei si serve di te Lei si serve di te Mentre io ne ho bisogno per vivere Lei è signora donna libera Non c'è nessuno mai Ed io così da sola cammino Spiccando goffi, voli verso, amici soli e tempo perso il mio destino Amare senza di più E dove spai il mio Eppure devo amarti amore mio Valentina Branca Chi ruberebbe mai, nessuno mai, gli occhiali a un poeta Senza la fantasia lo scrive Allora tu che cosa fai della mia vita C'era un ragazzo che amava tu Io bianchi e più negli ironi L'africa e vergine ma lontana Forse è per questo che lui mi amò La mia storia di donna si ferma il primo capitolo In prigioniera donna libera Chi è nessuno mai? 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 Nessuno E sul mio bus con il sapone l'ho scambiato per un cuore di carbone Amare senza di più E dove spai il mio Eppure devo amarti amore mio Valentina Branca Chi è nessuno mai? Nessuno Nessuno Bel brano Molto molto bello Ricordiamo che siamo in diretta 348 80 40 254 Il numero per i vostri messaggi Se volete richiedere una canzone Se volete fare una dedica Se volete salutare la Branca qui presente Se volete fare i compleanni Gli auguri di compleanno a qualcuno Qualsiasi cosa per noi va bene Volete mandarci le vostre foto? Meglio ancora Così andiamo nelle vostre case Andiamo a conoscere i vostri animali Andiamo a conoscere voi Usate questo numero qui Lo vede proprio Sì Alessi 348 80 40 254 Io guardavo Cos'è che guarda? E' lì, è lì, è lì E' sullo schermo E' lì, è lì E' di qua E' sotto me Guarda è sotto il pianoforte E' difficile questa cosa Sì perché noi vediamo al contrario Rispetto a ciò che c'è in tv Cara Valentina Sì Voglio ancora cantare un brano In questo primo tempo Lo dichiamo a tutte Coloro che si chiamano Gloria 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 Manchi tu nell'aria Manchi ad una mano Che lavora piano Manchi a questa bocca Che cibo più non tocca E' sempre questa storia E lei la chiamano Gloria 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 Tutti con noi dai Gloria Gloria Manchi tu nell'aria Gloria Manchi come il sale Gloria Manchi più del sole Sciogli questa neve Che soffoca il mio petto T'aspetto Gloria T'aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascia aperto il cuore Gloria Scappa senza Da un rumore Dal lavoro Dal coletto Dai gravini di un altare T'aspetto Gloria Tutti a casa Tutti a casa Con noi Gloria Perché accende il giorno E invece di dormire Con la memoria Torna A un tuffone I papaveri In una terra libera Per chi respira nebbia Per chi respira rabbia Per me che senza Gloria Con tre nude sul divano Faccio stelle di cartone Pensando a Gloria Gloria Manchi tu nell'aria Manchi commerciale Manchi più del sole Sciogli questa neve Che soffoca il mio petto T'aspetto Gloria Proviamo a far cantare l'oro Sì Vediamo un po' se cantano Dai Sto che vuoi Tutti dai Li senti? Dal lavoro Dal tuo letto Bravi Dai gradini di un altare T'aspetto Gloria E lo dico Ti piacerebbe? Sentire gli amici a casa? Che cosa? No va bene No 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 Assolutamente no Ricordiamo che siamo dal vivo 348 80 40 254 Per i vostri messaggi Devo raccontarvi io adesso Una cosa Sabato sono stato a Torino Con le telecamere di rete 7 Per registrare qualcosa Ma voglio prima farvi vedere un video Eccolo qui Amici di casa Peretti Mi trovo a Torino Perché Enrico si trova a Torino? Vabbè Non ve lo dirò mai Dovete seguire Casa Peretti Giovedì Nello speciale Che andrà in onda Dalle 20 alle 21 Ma cosa fai qua? Ma cosa fai tu? Sei il peggio del prezzemolo Te l'hanno già detto Ma cosa fai tu qui? Io shopping Ascolta Che Lucci Giovedì Diamo l'appuntamento ai nostri amici Di seguire casa Peretti Per lo speciale tour in Torino E ci sarò anch'io Non perdetevelo Soprattutto Chi lo sa Dove le stai Il peiretti Duale stai Il peiretti Insieme alla fia Lila Che Lucci Duale stai Non ve lo dico Giovedì Però vi aspetto tutti Come tutte le sere Dalle 20 alle 21 Su rete 7 Casa Peretti Giovedì C'è la puntata Tour Peretti World Tour In the world Proprio mamma A Torino A Torino Vabbè D'altra parte Io anche quando vado a fare La spesa qua sotto Dal panettiere Esco di casa Peretti World Tour Perché giro nel mondo Vabbè si scherza Dai voi Approfittatene Dei prossimi 3 minuti Per mandarci i vostri messaggi Qui al 348 80 40 254 Noi ci fermiamo Soltanto Per la pubblicità Eccola qui E se non ti avessi E io mai mi abituerò Alla tua voce I tuoi atti Contro la nostra volontà Adesso subito Amami 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 Imperdonabilmente Sì Con la tua vita Nella mia Ricominciando Da qui Amami Amami Indifferentemente Sì Senza ragione Né pietà Semplicemente Così Com'era? E se non ti avessi Amato mai Ora chissà Dove sarei Tra chi rinuncia E chi ti abbraccia E chi non capisce Come sei Pericolosa Amica mia Sarò un pericolo Per te Se fosse affetto A me ne andrei Ma per affetto A me non è Tutti Amami 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 Imperdonabilmente Sì Con la tua vita Nella mia Ricominciando Da qui Amami 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 Inevitabilmente Sì Senza ragione Né pietà Perché Nessuno È così Grazie 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 Nessuno È come me Ma meno male Meno male Te lo garantisco io Meno male Che nessuno È così Basta io E avanzo Avanzo Pronti a cantare Pronti a cantare con noi A casa Dai Tutti Vai Enrico Regia Canta anche tu Facci sentire La tua voce Amami 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 Imperdonabilmente Sì Con la tua vita Nella mia Ricominciando Dato lì Amami 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 Inevitabilmente Sì Senza ragione Né pietà Perché Nessuno È così Brava Branca Che soddisfazione Ma che soddisfazione Un brano che ho imparato oggi pomeriggio Brava Brava Sei sentito Probabilmente anche qualcosa di Va bene Molto bene 348 80 40 254 Tra un po' andremo a leggere Tutti i vostri messaggi Ma Vi do ancora un brano di tempo Il prossimo brano Secondo me Tutti a casa Hanno fatto Il trenino Con questo brano E lo rifaranno Anche stasera Ma beh Adesso non chiediamo tanto Però approfittate Di Maracaibo Per scriverci Dove eravate E cosa vi ricorda Questa canzone Secondo me Capodanno dell'82 È rischiosa A Cortina Perché No perché ha un testo particolare Non vorrei che andassero a dire cose particolari No ma no I nostri amici a casa Siamo in un orario Dove i bambini Sono ancora tutti svegli Maracaibo Eccola qui Fateci sapere Cosa mi ricorda Dai Cosa mi ricorda Siamo in un orario Cosa mi ricorda E il cuore suo tremò Quattro colpi di pistola E le sparò Maracaibo Mare forza nove Cosa mi ricorda Fuggire Fuggire si ma dove Zanzà La canzone dello Zanzà Cosa mi ricorda Cosa mi ricorda Maracaibo 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 Roma e la canzone dello Zanzà Roma e la canzone dello Zanzà Dove i nostri amici a casa Casapiretti è quel pensiero felice di ogni giorno Ed è una cascata di bellissima musica Freschi baci Ciao Dani Grazie Ciao Freschi baci Bella giacca Mandava messa domani sera C'è Toro Scatenato Ernesto da Pinerone Grazie al nostro amico Ernesto Domani se la ricordiamo Grande puntata di Toro Scatenato C'è stato delle polemiche Su questo rigore Dato e non dato Ma dopo lo andiamo a vedere bene Ciao Casapiretti Siete bravissimi Grazie Chiunque tu sia Un abbraccio Ciao a tutti Mi fate la canzone Ho camminato Grazie Un caro saluto a voi Alla family Fava Conosciuta oggi Grazie alla vostra trasmissione Luise e Fulvio di Torre Pelle Ecco queste sono le magie di Casapiretti Abbiamo i nostri fans Che girano per il Piemonte Si incontrano E tu guardi Casapiretti A chi io guardo Chi sei nei messaggi Io sono questo Bellissimo Bellissimo Ciao Casapiretti Stare in vostra compagnia È sempre una grande gioia Per la serie Mi accontento di poco Ma pretendo il meglio Oscar Wilde Un abbraccio Grazie Lara Grazie mille Ci ha lasciati domenica Il grande Paolo Italico Zennaro Amava la musica Credo che Casapiretti Sia il luogo giusto Per salutarlo Mamma Patrizia E sui tanti amici Grazie Enrico Per l'opportunità Grazie E Tino dei Total Black Ciao amico Ciao Ciao Buon inizio di canzoni Ciao da Elena Ciao Elena Grazie Quando si saluta Quando si saluta Quando si saluta Qualsiasi persona Ma poi quando L'età è così fresca E così tanta voglia di musica Resta proprio un amaro Un amaro in bocca Nell'anima Famiglia Peiretti La musica più bella Di sempre Ciao artisti Vi seguo tutte le sere Un abbraccio Maurizio Villa Dossola Grazie Mauri Salutiamo tutti Quelli che ci stanno Ascoltando da Villa Dossola Ciao da Giulia Finalmente ho fatto il dolce Proposto da Valentina e Fabio Qualche settimana fa Sono buonissimi Un saluto a tutti Amici di Casapiretti Siete bravissimi Brava Giulietta Brava 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 Non vediamo l'ora Di vedere la Torino Sotterranea di Enrico Alessia giovedì sera Purtroppo non riesco A guardarvi stasera Ma comunque vada Sarà un successo Per Valentina e Enrico PS Mi hai portato qualcosa Dalla Valle Saluti da Cristian E dai Gospel Alla faccia Che non bisognava dire niente Entro giovedì Della Torino Sotterranea Ma io non ho Non mi conto Ma certo No neanch'io Neanch'io Ciao Cristian Grazie Ma tanto si sa Enrichetto Visto che c'è Valentina Perché non mi fai ascoltare La Tatangelo Antonio di Susa E la mettiamo in programma Magari per giovedì 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 Antonio Giovedì ci sarà di nuovo qua La nostra Valentina Bellissimo inizio Bravissimo Buona serata Grazie Elena Grazie Ciao Enrico Ciao Valentina Cara Valentina Tu hai sempre cantato E canti benissimo Un saluto Anche a Fulvia E al marito Di Torrepellice Che abbiamo conosciuto Questa mattina Dalla Family Faba Vedi si salutano Prima uno E poi l'altro Bravi ragazzi Bravi Ciao sono Fabrizio Vorrei ascoltare La canzone di Vasco Rossi Alba Chiara La dedico a mio figlio E a mia moglie E a mia cognata Anna da Chivasso Ciao Siete bravi E complimenti Per la trasmissione Ciao Ciao Fabrizio La mettiamo in programma Domani sera Anche perché in scaletta Questa sera Ce n'è un'altra Di Vasco Rossi Dovrebbe esserci C'è chi dice no Insomma Vediamo il tempo Se non ne tiranno come sempre Buona serata amici Alfonsino e Germano Ci sono sempre A noi Fa sempre più piacere Ciao Molto bravi Volevo fare gli auguri Emilio che oggi compie nove anni Ma certo Auguri Emilio Da parte anche nostra Di Casa Peiretti Di Rete Sete Di chi ti ha mandato un messaggio Potete salutare i miei amici Daniele e Pippo Di Cermenate Volevo mandare loro Un grande abbraccio E dire che sono Una bellissima coppia Viva l'amore Sempre in tutte le sue forme Ecco Quest'ultima frase Casa Peiretti Si è già battuta Abbiamo dedicato puntate Abbiamo dedicato canzoni L'amore deve essere libertà Esatto Alessandro Da Cappellazzo E comense Scusate Vabbè Ciao Alessandro Ciao Salutiamo tutti quelli Che ci stanno ascoltando Da Ciao Enrico Ho risintonizzato Rete Sete Adesso vi vedo E sento meglio Un saluto a te Bellissima Valentina Una voce incantevole Ciao Francesco Grazie Francesco Ti vogliamo bene Bellissime canzoni Vorrei sentire Un tappeto di fragole Ciao Maria Va bene La mettiamo in programma Tappeto di fragole Magari già anche Venerdì o giovedì Vediamo Ciao Enrico Ciao da Enrico e Marco Complimenti per la trasmissione Ci mettete allegria E voglia di cantare Bene Un saluto ai nostri cognati Max e Giussi E se ci cantate qualcosa Dei Pucci Fate felici Questa sera in programma Fammi leggere Non ci sono i Pù Ma arriveranno domani E domani domani I Pù Ciao Enrico e Valentina Ieri sera erano assenti Ma questa sera Assolutamente presenti Siete sempre magici Bacioni Famiglia Bizarra Ciao Grazie Magici ci hanno detto Magici stasera Le puntate si susseguono Le canzoni sono molteplici Cambiano gli ospiti Cambiano i scenari Si perfeziona tutto Il vostro programma Una cosa sola non cambia Il vostro sorriso La vostra simpatia E la vostra compagnia Insomma siete insuperabili In tutto ciò che fate Grandi Un abbraccio Da Betta e Tino Senza però tutti voi Noi non potremmo stare qui Grazie Ciao Giovi Grandissimo Bravissimi Ciao Giovi Lo diciamo anche noi Ciao Giovi Branca Brava Tutti due Nonna Vale Ciao Nonina Grazie Questa è la nonna ufficiale Di Casa Peretti Mara Caibo Era la sigla Che dava il via Ai balli di gruppo Quando lavoravo Nei villaggi turistici Anche la mia Fabio Bei tempi Meglio non commentare oltre Lo so Fabio Lo so Ti capisco benissimo Ma proprio benissimo Enrico comunque Della Torino Sotterranea Ne hai parlato tu L'altra settimana Quando hai mandato E non dal video Si ok ok Ma era legato Un'altra cosa Grazie comunque Ciao Enrico e Valentina Ti seguiamo sempre Tutte le sere Ci saluti Anna Chiara E Giulia da Pinerone Ma certo che si Ciao Anna Chiara E un abbraccio E un bacio a Giulia Grazie E anche Anna Chiara Perché A tutti Tutte due Fammi vedere l'orario 20 e 38 Cosa ne dici Cantiamo ancora una canzone Si 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 Dai Cosa ci possiamo Andar cantare Facciamo un pezzettino Visto che La richiesta prima Un brano di Vasco Poi domani arriverà Anche al Bacchiara Ma adesso facciamo C'è chi dice No No Cantate con noi tutti Mi serve il coro C'è qualcosa Che non va In questo cielo C'è qualcuno Che non sa Più che ore sono C'è chi dice Qua C'è chi dice Là Io non mi muovo C'è chi dice Là C'è chi dice Qua Io non ci sono Tanta gente Convinta Che ci sia Nell'aldita Qualche cosa Chissà Quanta gente Comunque Ci sarà Che si accontenterà 3 4 8 80 40 254 Tra un po' arriva anche la ricetta La ventunesima Puntata di cucina Con branca C'è qualcuno Chi non sa Più cose Un uomo C'è qualcuno Che non ha Rispetto per nessuno C'è chi dice No C'è chi dice No Io non ci sono C'è chi dice No C'è chi dice No Ch'io Non mi muovo Tanta gente Convinta Che ci sia Nell'aldita Qualche cosa Chissà Quanta gente Comunque Ci sarà Che si accontenterà E adesso arriva la pubblicità Tre minuti e torniamo qui eh Fermi 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 Pubblicità Adesso Valentina Io vorrei proprio capire cosa mai cucinato di buono codè stasera Allora se me lo concedi Concedo Voglio raccontare un retroscena di questa ricetta Un retroscena Sì Esatto Mi piace la cosa Perché diciamo che quando Vuoi uno sfondo musicale Mentre No vabbè Come vuoi Come vuoi Diciamo che quando io e Fabio Cuciniamo e facciamo queste Videoricette Organizziamo dalle due alle tre ricette Però avevamo avanzato degli ingredienti E quindi abbiamo inventato O assemblato quest'ultima ricetta Fa ridere perché il titolo è Budino Con le mele E la cannella Peccato che noi negli ingredienti la cannella non la diciamo Portate pazienza Perché in realtà abbiamo utilizzato delle mele avanzate Per non buttarle Che la cannella ce l'avevano già Ma questo è importante E' importante perché non bisogna buttare via niente Esatto Quindi noi per non buttare via nulla Abbiamo fatto questo lavoro Mi raccomando amici a casa Seguite l'esempio di nostro Fabio e della nostra Valentina Non buttate Con qualsiasi cosa si può sempre reinventare un gran bel piatto Esattamente E quindi nelle mele noi non lo diciamo Ma c'è già la cannella Posso andarla a vedere? Sì 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 Me lo concedi? Enrico Regia Facciamo un applauso Enrico Gran lavoro oggi Bravo bravo Grazie Enrico Eccola lì E' la ricetta Vabbè La ventunesima Guarda adesso arriva Arriva E' one Che buono Amici e amiche Ciao a tutti Bentrovati per una nuovissima puntata di In Cucina con Branca Con Fabio Chef E con Valentina Branca Ciao Che cosa facciamo di buono oggi? Oggi faremo un budino al cioccolato mela e cannella Che bontà Che bontà Andiamo a vedere come si fa E poi? E poi la mela E poi la mela E che cosa abbiamo fatto vale? Abbiamo messo tutto insieme Abbiamo unito tutto insieme e alla fine un po' di maizena ed ecco qua Un composto profumosissimo dal colore di cioccolato e dal sapore meraviglioso Allora facciamo le nostre ciotole Sì 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 O meglio le nostre coppette Tutto fuori I pasticcini È facile No Per una volta i pasticci non li faccio solo io Volevo fare attenzione Ok Questo vale va poi conservato in frigorifero o a temperatura ambiente così almeno non è poi troppo caldo Per circa due orette E poi si gusta tranquillamente con un bel cucchiaino Ma noi se lo assaggiamo da caldo? Eh perché? Potrebbe essere una buona idea Prendiamo i cucchiaini Giusto così per sapere un po' il sapore che ha Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata E vi mandiamo un grosso bacio e un abbraccio Ciao amici Ciao Massaggiamo Hai capito hai capito che meraviglia Hai capito Brava Bravo Salutiamo anche il nostro Fabio Salutiamo lo chef Ciao grande Fabio E adesso altre cose meravigliose come i vostri messaggi Vai Enrico voglio leggere gli ultimi gli ultimi di questo martedì Ricordandovi che domani sera qui con me c'è Enzo Allasino Il nostro Sgarbi Il nostro maestro E la simpatia L'esuberanza La Come come Non ho più aggettivi per la zia Marta La vostra zia preferita Adesso i messaggi Un mega saluto dal mitico Christian Delbasco Ai miei mitici amici Vale Larry Ciao Christian Ti vogliamo bene Grazie Ragazzi posso dirvi che mi avete fatto venire l'acquolina in bocca con la vostra ricetta di stasera Valentina e chef Fabio preparate delle ricette spettacolari E anche il budino al cioccolato e mele lo rifarò in questi giorni Un bacione Enrico da Renata di Torino Ciao Renata La musica tira sul morale Penso a tutti in questo periodo non mollare mai Continua così Splenida meravigliosa e bellissima Valentina Grazie di cuore per quello che fate Vi voglio bene Casa Peiretti Se puoi fai una canzone del volo per mia madrina Adriana Grazie da Davide Ah dimenticavo un saluto a Laila e Chicco Ciao da Barge E sempre nomadi Ciao Davide Dobbiamo dire una cosa sulle basi del volo Purtroppo ci sono delle basi troppo strane Troppo stravolte Troppo difficili E non riusciamo a farle sentire bene Quindi se conoscete uno dei tre Fatemelo mettere in contatto Mettetelo in contatto con me Ciao a tutti voi amici di Casa Peiretti Toglietemi la curiosità Enrico Mica giovedì sera fai vedere Torino Io l'ho già visto Ti assicuro che bella Enrico Valentina Volevo sapere se vi interessano dei testi di canzoni Che sto scrivendo Ma certo Mandaceli in casa Peiretti Chiocciola Rete7.it Li scrivo su amore e amicizia Grazie Enrico di Collegno Siete sempre più bravi Siete sempre più in tanti E sempre più gentili Grazie C'ero anche io a suonare con Valentina Domenico Bellissimo pomeriggio Buona musica ragazzi da William E certo E lo salutiamo allora Ciao William Ciao Grande musicista William Ciao grazie che ci fate compagnia con le vostre bella musiche O bella musica che sia Sempre sorridere Noi ci proviamo Grazie Anna Chiara Ciao ragazzi Rino e Lella Con tanta simpatia da Robilante Che cuneo che se chiediamo l'isola di White Troppo? La volete cantare o comprare? Dipende Perché costa parecchio No Facciamo domani Dedicatissima a voi due Grazie Sentite Valentina e Fabio Non potete farci vedere delle ricette così golose Senza farcele assaggiare Ditemi dove e quando Io arrivo Naturalmente deve esserci anche Enrico Il mio cioccolatino preferito Oh ma che bello Un cioccolatino preferito Mi ha detto Baci baci da Caterina di Torino Grazie Caterina Cioccolatino Ah beh Non me l'avevano mai detto Cioccolatino Sì anche commosso Cioccolatino E poi per di più preferito Vuol dire che ce n'ha più di uno I preferiti erano quelli con il liquore dentro Eh con un po' di brio Un po' di brio Andiamo a parlare solo un secondo della prossima canzone Sì Perché me l'hai detto nelle prove E mi sono venuti i brividi Allora questo brano che andrò a cantare È il primo brano che io ho cantato in questa stanza Non era ancora a casa Peiretti Era Parliamone Ed è stato il brano Il primo brano che avete sentito qui su Rete7 Dalla mia voce Ci proviamo Ho amato tutto Tosca Tre passi è dentro la finestra E il cielo si fa molto Resto lì a guardare Io so cantare So suonare So reagire ad un addio Ma stasera non mi riesce niente Stasera se volesse dire Faccio pace con i tuoi occhi Finalmente Con te ho riscritto un alfabeto Di ogni parola stanca Il significato Perfettamente inutile Cercare di fermare l'onda che C'è un rego e poi ci lascia senza fiato Ed è una musica che va in un istante prima che ritornare E come un pesce che non può più respirare Come un palazzo intero che sta per cadere Tu sei mica messa E io sono andata Un volo che è partito Svanito in fondo al blu E io adesso farei qualsiasi cosa Per sfiorare le tue labbra Per rivederti Quanta musica è passata E quante canzoni da quel pomeriggio Se è vero che il tempo ci rincorre Oggi sono questa feccia Questa carne e queste ossa Mi sento ancora addosso Le tue mani che mi spostano più in là Dove si vive solo di uno sguardo E tardi si spegne la candela E sempre troppo tardi Per chi non tornerà E come un pesce che non può più respirare Come un palazzo intero che sta per cadere Tu sei l'unica meressa a cui io sono andata Un treno che è partito Sparito in mezzo al blu E io adesso farei qualsiasi cosa Per averti tra le braccia Per rivederti Perché se manchi tu manchi da morire Perché amarsi e respirare i tuoi respiri Stracciarsi via la pelle E volersela scambiare L'attimo fatale In cui mi sono arresa Perché tu vieni con questo amore tra le mani E come sempre nei tuoi occhi La mia casa Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto Io ti rispondo Io ti rispondo amato Ho amato tutto Valentina Branca Grazie Grazie Enrico Energia Grazie a te E grazie a tutti gli amici di Casa Piretti Che grazie a Valentina Enzo Luciano Il nostro super Giuliano Falco Sì sì E tutti coloro che sono stati qua in questa stanzetta Perché Ci hanno permesso di arrivare ormai La 450esima E più puntata Non ancora ma ci arriveremo Beautiful Aspettati E guardati alle spalle Perché Casa Piretti è lì Sul fiato sul colno Grazie Enrico Piretti Grazie Enrico e Regia E grazie a ognuno di voi Ci vediamo domani Se volete rivedere questo O qualcosa di questo Alle 23 e 30 Che dire Però aiutateci voi È importante Andate in giro a dire Che cos'è Casa Piretti Fateci crescere Grazie Valentina Grazie Ciao Grazie